Siamo con Luca Teruzzi più uomo di spettacolo più pocherista ma ti dirò è una bella lotta perché mi ha preso talmente tanto questo gioco mi diverte tantissimo sto trascurando un po' lo spettacolo devo dire la verità quindi adesso ti senti più pocherista per il momento sì dai facciamo mettiamola così risultati risultati qualcuno l'ultimo ipo sono andato nei top 10 arrivato dei quattro sono uscito con un cooler kkk asso asso e qua per rifarti kkk asso river da infarto tentiamo tentiamo comunque sto giocando molto tranquillo molto tight chiuso aspetta la mano giusta adesso mi stanno sentito quelli del tavolo mi castigano comunque molto bello bellissimo gioco struttura dell'ipo si addice alle tue caratteristiche di giocatore sì 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 sono molto cambiato nel corso io gioco da due anni quindi pian piano mi sono trasformato prima entrava con mani molto marginali invece adesso sono un po chiusino alterno alcune mani un po pazze però la struttura dell'ipo mi piace moltissimo mi piace molto anche come organizzato mi piace tutto di qua è spettacolo in realtà per il momento devo fare il serio se non non ho credibilità ciao grazie ciao a tutti ciao